Fano sarà la terza tappa su 14 su tutto il territorio nazionale della quarta edizione del Grande Viaggio Insieme, l'evento itinerante di Conad per incontrare le persone ed essere nei luoghi in cui si costituisce la comunità, per condividere con i fanesi esperienze di relazione all'insegna dell'ascolto, del buon cimbo, della musica e dello sport. Sì esatto, tre giorni, gli ennesimi tre giorni perché il Grande Viaggio è un progetto che è cominciato anni fa, abbiamo già toccato nelle marche territorio pesarese invece in questi tre giorni veniamo a casa dei nostri clienti che sono 11 milioni nel territorio marchigiano, veniamo a casa dei clienti fanesi per dimostrare e farci vedere chi siamo, per ristaurare quel rapporto, conoscere le esigenze, conoscere i territori e consolidare sempre di più il rapporto che c'è tra i nostri imprenditori che sono cittadini di Fano e le persone che frequentano tutti i giorni i punti vendita. Da giovedì 19 aprile Conad partirà per questa tre giorni incontrando nella mattinata a 9.30, 12.30 gli studenti dell'Istituto Superiore Polo 3 di Fano con un incontro con il sociologo Aldo Bonomi. Venerdì pomeriggio a partire dalle 17 al Teatro della Fortuna Sala Verdi l'incontro aperto al pubblico che vedrà la presenza sul palcoscenico del sociologo direttore appunto Aldo Bonomi e dell'amministratore delegato Conad Francesco Pugliese. A partire dalle 19 poi il concerto attesissimo del maestro Beppe Vessicchio con i solisti del sesto armonico. Nella giornata di sabato a partire dalle 11 al centro anziani della cooperativa Tre Ponte, il consolidato appuntamento con Conad C'è Musica in Città, sempre col maestro Beppe Vessicchio. Altro protagonista della tre giorni fanese poi il cibo con una serie di degustazioni e cooking show che si terranno in diversi punti Conad della zona nelle giornate di giovedì e venerdì. Attori assieme ai cittadini quindi saranno i prodotti tipici del territorio, valorizzati e raccontati attraverso le gustose ricette preparate dai maestri della compagnia degli chef. Quali sono i concetti che volete veicolare? Il concetto di comunità, quindi dello stare insieme, dello stare insieme come aggregazione, dello stare insieme per affrontare determinate tematiche che proprio come noi, come con, in Torricone abbiamo il nostro DNA, soprattutto quello di sostenere il territorio, per sostenere il territorio bisogna conoscerlo e farsi conoscere all'interno di questo e questa tre giorni nasce con questo scopo.